La protezione civile, con due volontari della protezione civile che sono arrivati oggi a Force e hanno approntato una cucina da campo per la popolazione che ricordiamo è confinata in palestra. Quante persone ci sono? Qui in palestra saranno nell'ordine di 120 persone. E oggi avete preparato i primi pasti, mi dicevate? Sì, stamattina abbiamo preparato le colazioni e a pranzo la nostra cuoca ha preparato il pranzo per tutti quanti, compresi anche i volontari e i vigili del fuoco. Quanti? Sempre più di 100 pasti sicuramente? Stiamo stati nell'ordine, sì, all'incirca dei 100 pasti, sì. Com'è il morale delle persone qui? Ma diciamo discreto, discreto, né ottimo né diciamo proprio terra terra, discreto. Comunque ecco noi siamo qui. C'è paura più che altro forse? Ma è più che altro il morale che fondamentalmente non è un morale alle stelle, è un morale comunque che si adatta alla realtà del periodo che stiamo vivendo. Comunque noi siamo venuti qui per portare un aiuto sia materiale che morale. Ecco, fondamentalmente il nostro compito è questo.